Mister, Master, Maestro o semplicemente David Lynch? Ma poi ieri ho visto, non so se forse l'ha vista come immagine di copertina di questo video ho visto un documentario, cosa che faccio ogni venerdì diciamo da qualche anno un venerdì sera vedo sempre i documentari sull'arte un canale italiano, uno dei pochi canali italiani che vedo i canali vedo in televisione perché sappiamo la televisione, il problema è la televisione io ne vedo veramente pochissimi, interessante da qualche anno a questa parte comunque dicevo, ho visto, si parlava del Marmo di Carrara, bellissimo e mi chiedevo appunto se lei conoscesse il Marmo di Carrara conosce il Marmo di Carrara? o conosce, perché io non so mai se darle del tu o darle del lei comunque conosci David, Mister David Lynch, conosci il Marmo di Carrara?